Eccoci qua, benvenuti a tutte amiche e benvenuti a tutti amici di Rossini TV, anche oggi sabato 23 aprile, siamo con voi per una nuova puntata di We Pesaro TV e abbiamo un ospite del quale siamo davvero molto 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 orgogliosi di averlo con noi, Luca Pandolfi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Luca, assessore alla solidarietà, con deleghe ai servizi sociali, politiche per la famiglia e volontariato, quindi davvero hai tante cose da dire, sei un ingegnere, quindi ingegnere Luca Pandolfi mi piace anche definirti per quello che sei, perché al di là dell'aspetto politico, c'è l'aspetto che ci identifica come cittadini e poi devo dirti una cosa all'inizio, sono quasi dispiaciuto di non averti avuto qui il 7 di maggio. Il 7 di maggio, esatto. Sono quasi dispiaciuto di non averti avuto qui il 7 di maggio, bensì a fine aprile, perché diciamo che è una data importante, il 7 di maggio per te. Sì, è il mio compleanno. Esatto. Quindi 50 poi. Esatto, infatti lo volevo dire, una cifra tonda e comunque la festeggiamo due settimane prima, perché è davvero un piacere averti, perché al di là di tutto io ti ho visto, conosciuto il tuo percorso, è davvero anche questo aspetto proprio di volontà, di mettersi al servizio della società, a mio parere è una cosa che veramente ti dà quel qualcosa che ti fa distinguere, nel senso che ok, hai deciso di fare questo per la comunità. Ti ringrazio per la presentazione intanto, sono ingegnere però vengo da un'esperienza di volontariato da anni, anzi ragionando con la famiglia in questi mesi a seguito dell'assessorato e dell'incarico importante che mi hanno dato, riflettevo su da dove viene tutto questo percorso ed era nato nel 2013-2014 quando ero volontario e presidente del Comitato di Gestione dei Figli, ho sempre avuto il piacere di segure i figli nel loro percorso già dall'asilo e da lì mi sono attivato con tanti altri genitori nel volontariato in quella piccola comunità, da quello che è nato lì mi hanno proposto un'esperienza e un impegno in quartiere, tu sai che poi mi sono speso come presidente del quartiere 7 di Murale Montegranaro e da lì in comune, da lì sono qua, quindi c'è questa idea che seguo di impegno per la comunità al servizio della comunità che per me è molto importante. Sì, allora Luca tu sei diventato assessore da pochi mesi, adesso noi vediamo una brevissima intervista che ti realizzammo qualche mese fa quando appunto ci fu questa importante carica, poi ne parleremo più approfonditamente. Ringrazio il sindaco per la fiducia e ringrazio giustamente l'assessore Sara Mangucci per il lavoro fatto in questi anni che è riconosciuto da tutti, ho sempre creduto nell'importanza di lavorare di squadra e in gruppo e quindi so che potrò contare su degli uffici con delle persone competenti, in consiglio comunale che soprattutto la maggioranza ha la tradizione di essere sensibili a queste tematiche sociali, tant'è che abbiamo investito negli ultimi anni molte risorse e tutto il mondo del terzo settore che lavora e fa volontariato in questo settore che ha pesato a una grande ricchezza ed è molto forte, quindi lavorerò di squadra, siamo pronti a continuare un buon lavoro che era già stato iniziato. Luca, sono passati quindi quattro mesi, quattro mesi di un incarico importante, un incarico importante perché come mi dicevi anche prima un incarico di grande responsabilità, oltretutto le deleghe che hai se le analizziamo sono delle deleghe che sono fondamentali per quello che riguarda una società come quella che noi vorremmo che fosse, quindi qual è il tuo bilancio di questi primi quattro mesi? Come ti senti? Soddisfatto? Sei partito davvero col piede giusto? Sono soddisfatto, l'assessorato è un assessorato importante, ma sono soddisfatto perché è un assessorato che è stato costruito negli anni da chi mi ha preceduto e quindi ci sono professionalità, c'è un percorso e un progetto importante che viene portato avanti anche dall'amministrazione comunale che continua a investire nel sociale e quindi diciamo è il reddito qualcosa di buono e cercherò modestamente di portarlo avanti e sapendo che non sarò solo e ho tutto uno staff che mi aiuta e ha diciamo lo stesso progetto, lo stesso obiettivo da portare avanti. Sì, questo è molto importante perché l'hai detto giusto, hai detto benissimo, è la squadra che vince, il gruppo che vince e l'abbiamo detto ad altri ospiti che abbiamo avuto qui in questi mesi, sempre del comune, quindi della giunta, è davvero il gruppo che dà l'idea che le cose si facciano e si facciano bene e credo che anche in questo caso tu ne sei la testimonianza al di là di quello che ci metti proprio quotidianamente perché l'impegno è grosso, si può dire che è a tempo pieno. Assolutamente, è un impegno totale però molto stimolante, poi l'assessorato credo che sia un assessorato che dando risposte dirette alle persone, diciamo anche chi deve come me di gestirlo a grosse gratificazioni perché dai veramente le risposte a necessità, bisogni impellenti dei cittadini pesaresi. Sì, si dice sempre che il volontariato è un qualcosa fatto per gli altri, vero, verissimo, quando si fa volontariato ci si mette a disposizione degli altri, però in realtà si raccoglie tanto anche per se stessi perché poi si crea un'energia e proprio un doppio canale con chi poi si aiuta che ti dà, come hai detto te, grande gratificazione e grande propellente per andare avanti. Sì, devo dirti che innanzitutto come persona che ha fatto volontariato, lo sta facendo ancora adesso, avevo già una percezione che la comunità fosse una comunità ricca, ricca non solo perché ci sono tante associazioni di volontariato, terzo settore, cooperative sociali, ma anche ricca nella qualità dei progetti che portano avanti. È chiaro che oggi dal punto di vista dell'assessorato, quindi avendo una prospettiva diversa, riesco a cogliere ancora di più la potenza e la forza di questa ricchezza che ci ha aiutato ad esempio in momenti difficili come il Covid, che ci aiuta adesso nell'affrontare l'emergenza dell'Ucraina, quindi questa comunità che un amministratore deve rendersi conto che è estremamente importante avercela e condividerla sostenerla e creare progetti, programmazioni, progettazioni condivise. Quindi questo è un altro elemento molto importante che ho avuto modo di vedere in questi 4 mesi di presenza come assessore. Il bello della diretta è questo, noi avevamo previsto di cominciare da un altro argomento, ma visto che tu l'hai nominato io quasi quasi ribalterei le cose, perché tu hai già nominato questo momento di aiuto, di grande aiuto della nostra città, della nostra comunità, del comune verso l'Ucraina. Continuano le manifestazioni di solidarietà, continuano le raccolte, continua proprio il modo di sentirci vicino a questo popolo che sta vivendo un dramma esistenziale così incredibile qual è la guerra. Sì, noi ci siamo attivati subito, siamo forse uno dei primi comuni che proprio ha strutturato una risposta con i servizi della protezione civile e dei servizi sociali e dovevamo gestire l'emergenza, l'emergenza che voleva dire chi arrivava sul nostro territorio, ma anche i tanti cittadini che hanno da subito manifestato la voglia di dare una mano. Volevamo mettere un ordine, abbiamo costruito una cabina di regia, proprio per il discorso che è importante fare rete, abbiamo subito coinvolto delle realtà che hanno anche una visione extra italiana come sono strutturate che sono la Croce Rossa e la Caritas. Da lì è nato un bel progetto di prima accoglienza, è chiaro che l'accoglienza fisica nelle strutture è di competenza della prefettura e della protezione civile, però noi abbiamo messo in gioco un progetto che avevamo di protezione freddo con la città della gioia che ha dato delle risposte concrete, quando sono arrivate la prima famiglia piuttosto che la seconda, erano una ragazza di 22-14 anni che sono arrivate alle 4 di notte, grazie a questo servizio H24 li abbiamo prese e accolte in una struttura alberghiera nel tempo necessario, quindi abbiamo messo su tutto un meccanismo di aiuto perché eravamo già strutturati con dei progetti che abbiamo rimodulato e perché abbiamo già una rete forte sul territorio per dare delle risposte concrete. Adesso siamo nella seconda fase, da lunedì prima di Pasqua c'è un servizio di segretariato sociale legato strettamente all'emergenza ucraina dove si possono chiedere tutte le informazioni del caso, oggi dobbiamo pensare a un'accoglienza più prolungata e quindi ci stiamo strutturando a dare queste risposte. Pesa hai utilizzato un concetto importantissimo, quello dell'accoglienza, queste persone, questi giovani, questa ragazza giovane che veniva via da casa sua perché bombardata, perché probabilmente magari ha dovuto abbandonare marito, famiglia, è arrivata a Pesaro alle 4 di notte, in piena notte e ha trovato qualcuno che l'aspettava per portarla semplicemente a scaldarsi, a fare una doccia. Credo che sia un concetto che è importante trasmettere perché noi diamo le cose per scontate, non ci rendiamo conto invece di cosa può significare per alcune persone vivere un'esperienza del genere. Assolutamente, infatti dobbiamo parlarne perché è stata una risposta importante, perché è stata una risposta a persone che chiedevano aiuto e noi ci siamo strutturati, abbiamo organizzato un buon servizio, ma l'aiuto l'ha dato anche la città, perché voglio anche ricordare che forse l'80-90% dell'ospitalità è in casa di privati oggi, quindi vuol dire che dei piazaresi o famiglie di ucraini che erano comunque nel nostro comune hanno deciso di dare una mano. Vedi questa è una risposta che si può dare per tanti versi anche al concetto di cultura, la cultura è anche questa, al di là degli slogan, al di là degli anni che a venire vivremo per questo importante titolo che avremo nel 2024, ma la cultura è anche quella dell'accoglienza, la cultura è quella dell'apertura, la cultura che ci permette poi di essere dalla parte delle persone che hanno bisogno. Il comune è dalla parte delle persone che hanno bisogno anche su un altro aspetto ed è quello che è di più recente cronaca. Questa settimana è stato presentato questo nuovo aiuto del comune, vi ricorderete che i primi due anni del Covid nel 2020 e nel 2021 c'erano stati voucher per le famiglie che avevano difficoltà proprio nella spesa quotidiana, grazie ai voucher hanno potuto avere un aiuto. Adesso ne è arrivato uno nuovo, vediamo il servizio che abbiamo realizzato, che è andato in onda proprio le serate scorse sul nostro Tg e poi approfondiremo l'argomento di questo bonus famiglie per le bollette. Anche per il 2022 il comune di Pesero rinnova il fondo anticrisi, un fondo che diventa particolarmente significativo in un'annata in cui l'inflazione è pure aggravata dalle ripercussioni economiche della guerra in Ucraina. Ecco allora che il fondo diventa un sostegno concreto alle famiglie colpite da crisi occupazionale per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas. Abbiamo rinnovato il fondo anticrisi mettendo 340 mila euro, è un fondo che nasce per dare sostegno alla crisi occupazionale e abbiamo pensato di dare sostegno sostenendo le famiglie e le persone sulle bollette, bollette luce, acqua e gas. Abbiamo anche pensato a questo, di alzare l'ISE rispetto a quello che era stato il fondo anticrisi in precedenza, quindi l'ISE è stato spostato a 20 mila euro e questo perché vogliamo intercettare più persone possibili, anche quella fascia grigia che generalmente non viene intercettata dai servizi sociali ma che in questo periodo ha subito fortemente l'aumento delle bollette. Il fondo è indirizzato alla crisi occupazionale, quindi a chi ha perso il lavoro nel 2021, quindi dal 2021, chi è in cassa integrazione e quindi tutti quei soggetti che sono stati colpiti in questo periodo fortemente. Il fondo presentato alla presenza del sindaco Matteo Ricci e delle rappresentazioni sindacali di CGL Cisle Will è il risultato dell'ultima consultazione con le parti sociali che si è svolta a marzo. Il contributo sarà costituito da una tantum commisurata all'importo delle spese relative esclusivamente all'abitazione di residenza effettivamente pagate e documentate fra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Gli importi massimi erogabili sono di 500 euro per le famiglie di uno o due componenti, di 700 per quelle di 3-4 componenti, di 1000 euro per quelle da 5 componenti in su. Sarà possibile inoltrare domanda da venerdì 22 aprile e dentro il 23 maggio attraverso i servizi online della pubblica amministrazione. Luca, quindi il servizio è stato molto breve, ha riassunto in termini proprio veloci ciò che concerne questa grossa possibilità dalle famiglie, vediamo di capirla un po' meglio perché anche qui entra in gioco la volontà di investire, di metterci delle risorse importanti per aiutare le persone. Sì, il Fondo Anticrisi 2022 è un fondo importante, dico subito che è dedicato alla crisi occupazionale, questo va detto, quindi la prima cosa che va detto è che è dedicata a chi ha perso il lavoro nel 2021, piuttosto che chi è in cassa integrazione, quindi chi è in situazione di crisi economico-sociale. Però abbiamo voluto, anche in condivisione, con un percorso condiviso con i sindacati, per questo ci tengo a dirlo, abbiamo voluto investire questi 340 mila Euro in uno di quelli che oggi è i temi più problematici del momento che sono il caro bollette, un caro bollette che nasceva già dopo la ripartenza a causa del Covid e che adesso è diventato veramente critico a seguito della guerra in Ucraina. Quindi questi fondi che il Comune vuole destinare e saranno destinate per il sostegno, per pagare le bollette della luce, gas e acqua per i cittadini pesaresi che sono in queste particolari condizioni. Altri parametri sono l'ISEE di 20 mila Euro, che cito perché abbiamo voluto aumentare l'ISEE, perché esiste una fascia grigia che generalmente non viene intercettata neanche dai servizi sociali nostri, che questo ceto medio che comunque in questi anni ha subito fortemente la crisi e dobbiamo tenerne conto. Quindi è rivolto a tutti, ma abbiamo ampliato lo spettro dell'aiuto che possiamo dare. Sì, è rivolto appunto a chi ha perso il lavoro, a chi ha problemi di lavoro, di contratto, magari contratti anche non mi pare a tempo indeterminato, quindi situazioni borderline per quello che riguarda il lavoro e anche questo concetto dell'ISEE. In più mi pare che c'è una proprietà mobiliare di 50 mila Euro come limite. Come si fa? Perché se non sbaglio proprio in questi giorni adesso è il momento nel quale fare domande. È partito oggi, si fa domanda online tramite la piattaforma del Comune e in ogni caso se per chi ha bisogno di spiegazioni può benissimo chiamare i servizi sociali. Però è tutto online per semplificare, si spera, tutto il meccanismo e accelerare poi la possibilità di dare questi tipi di contributi. La domanda scade il 23 maggio, quindi c'è questo mesetto per fare le domande. Un mese di tempo in poche parole da tutti coloro che ne vogliano fare richiesta, la possibilità di approfondire e di sapere come fare. Quindi anche attraverso i servizi supplementari messi a disposizione dal Comune. 340 mila Euro sono una bella somma, Luca. Cioè in un momento come questo in cui anche il Comune, come tutti noi, tutti i cittadini comuni mortali, ha i suoi problemi di bilancio dovuti agli aumenti. Sì, questo ci tengo a sottolineare perché è stato anche sottolineato dal Sindaco in conferenza stampa e oggi tutte le amministrazioni comunali subiscono il carbollete e non solo. Un carbolletto che sta incidendo in una maniera importante e poi su una voce di bilancio che è quella della spesa corrente che paga i servizi educativi, i servizi sociali, quindi quella già che è dedicata ai servizi alla persona di un comune. Inevitabilmente dobbiamo uscirne con un sostegno a livello governativo, però in questa fase in cui ancora manca stiamo facendo i conti in tasca e sono numeri importanti, ma nonostante questo abbiamo deciso di indicare, individuare delle cifre di spesa per il sostegno immediato ai cittadini pesaresi. Certo, anche perché per il momento è proprio una partita di spesa che ci mette il comune, stop, non ci mette nessun altro, il comune che mette queste risorse a disposizione di chi ne ha bisogno. Perché? Lo sottolineo perché? Perché per esempio c'è stata la diminuzione di 30 centesimi dei carburanti, deciso a livello governativo, ma in realtà quella diminuzione non porta nessun problema, cioè non porta dei soldi in meno allo Stato, perché quelli erano previsionali su un qualcosa in più che sarebbero stati dovuti all'aumento. In realtà lo Stato da quel punto di vista è come se non ci mettesse niente, non ci guadagna diciamo. Il comune invece nel caso di Pesaro tira fuori dalle sue tasche per mettere a disposizione dei cittadini questi 340 mila Euro. Mi permetto di dire, è una cosa notevole. Sì, e mi permetto di ritornare forse all'inizio dell'intervista in cui dicevo che ho ereditato un concetto di sociale e di impegno sociale che mi precede. L'amministrazione comunale non ha mai tagliato sul sociale. La spesa anzi è stata incrementata perché, come per i servizi educativi, perché la riteniamo una spesa fondamentale per una città moderna che vuole investire nella cultura e nello stato sociale che funziona. Perfetto, poi è una città che possa davvero funzionare da tutti i punti di vista, cosa che noi tante volte qui diamo tutto per scontato con quelli con i cosiddetti lamentoni, ma in realtà nella maggior parte dei casi molto spesso sentiamo che chi vede Pesaro o ci capita per caso dice, ma voi state in paradiso. Diciamocelo. Sì, sì, è assolutamente così. Dopo è chiaro che in casa, in un certo senso credo che sia anche positivo voler alzare sempre l'asticella. Se è propositivo va bene. Noi vogliamo sempre alzare l'asticella, quindi vogliamo sempre di più. Noi per primi, come amministratori. Perfetto, benissimo. Questo è un dato di fatto importante per noi cittadini, per tutti e per gli amministratori stessi, che sottolineo sempre, sono loro cittadini anche. Non è che gli amministratori non sono cittadini, appartengono a questa categoria. Luca, tu sei presidente anche di ATS1, che sarebbe l'unione dei sette comuni, forse non definiamoli più importanti, ma vicini alla costa e quindi tu sei presidente di questa, non possiamo definire l'associazione perché non è un'associazione, è un'istituzione. Di cosa si tratta esattamente? Diciamo che giustamente il socio sanitario viene gestito non solo nei confini comunali, ma viene anche visto in un'ottica extracomunale e ci sono, la regione è divisa in 20 ambiti, l'ambito territoriale numero uno è nostro ed è composto da sette comuni. Diciamo che la parte decisionale è in capo ai sindaci dei comuni che hanno in alcuni casi delegato agli assessori come nel mio caso e si tratta, si programma, si progetta e si intercettano molti finanziamenti legati al socio sanitario. Ti faccio solo un esempio importante, a fine marzo abbiamo partecipato ai bandi PNRR del sociale che dal punto di vista governativo erano stati dati in gestione agli ambiti territoriali, quindi sono loro che hanno presentato i progetti che devono essere vinti e portati a casa sui soldi che riguardano i soldi investiti nel sociale del PNRR. Adesso a breve poi avremo anche le risposte, quindi è importante il servizio che fa l'ambito territoriale, non solo perché si costruiscono strategie tra comuni, ma anche perché di fatto tratta dalla disabilità, col centro per le famiglie si va dal preparto alla fascia più piccola d'età, si organizzano iniziative per i più grandi o anche convegni di aiuto alle famiglie sui temi più disparati, piuttosto che oltre a disabilità c'è il discorso del sociale a 360 gradi, quindi l'aiuto, ci sono i centri di antiviolenza all'interno dell'ambito territoriale, piuttosto che luoghi di ascolto per i giovani come il passaparola, quindi è veramente un servizio articolato che da noi più che da altri è stato costruito nel dialogo col terzo settore, con le cooperative sociali, con tutto quel mondo che va integrato per portare avanti al meglio i servizi per i cittadini. Certo, che poi dà pratica alle teorie, alle cose, mettendoci le mani e lavorando. Il concetto della disabilità è un altro concetto molto importante, un paio di settimane fa abbiamo avuto a Pesaro gli stati generali della disabilità e tu sei molto attento anche a questo argomento perché sai benissimo che è già sbagliato di per sé doverne parlare di disabilità, perché il bello sarebbe non doverne parlare e far sì che non esista. Sì, invece purtroppo bisogna parlarne perché è anche una cosa che è immersa dal confronto, molto importante di fatto agli stati generali è stato quello di continuare il dialogo perché anche al di fuori dei tavoli che sono stati costruiti, anche su tematiche diverse, perché non c'era solo un tavolo sociale ma c'era il tavolo attività economiche che riguardava l'eliminazione delle barriere architettoniche e questi momenti sono importanti perché poi se ne parla anche fuori e quindi il cittadino, la comunità deve essere sempre attenzionata, in Italia c'è tanto da fare, noi adesso stiamo lavorando al PEBA, il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche che non è solo legato alla disabilità ma a tutti, la mamma con la carrozzina deve essere in grado di andare ovunque in un stato civile, quindi stiamo lavorando per questo strumento che è uno strumento tecnico, mi piace ricordare anche che il primo atto che ho fatto da consigliere comunale due settimane dopo che ero insediato è stato proprio un emendamento che chiedeva di lavorare sulla costruzione di questo strumento tecnico molto importante, però ci tengo a dire che dagli stati generali è emesso tanto altro, non si parla solo di rampe di accesso ai luoghi pubblici, l'accessibilità vuol dire l'accessibilità ai siti istituzionali, l'accessibilità vuol dire l'accessibilità al lavoro perché ci sono alcune categorie, penso all'ense, quindi ai sordi che hanno grossi problemi di accesso anche a forme di autonomia e di lavoro, quindi l'accessibilità è un diritto e va visto nella sua complessità e quindi nel momento in cui è complesso bisogna riflettere e dare delle risposte adeguate, quindi benvenga questo momento di riflessione, ma da quel tavolo o da quei tavoli l'idea condivisa è che ogni giorno è un giorno importante per costruire e dare delle risposte. Certo, hai detto benissimo, diciamo che poter vivere la disabilità in maniera virgolette normale, perdonateci la Simoro, ma è così, è un diritto, così come dovrebbe essere un dovere di una società civile, quella di mettere proprio le persone a far sì che questo diritto possa essere esercitato. Assolutamente. Luca, grazie, noi abbiamo completato la nostra intervista, io ti ringrazio, ma lo sapevo che sarebbe stato così interessante come si è rivelato, non avevo dubbi, tant'è vero che era già da qualche tempo che io ti volevo avere qui con noi, grazie da Rossini TV, grazie da tutta la redazione, sono stati davvero momenti e minuti importanti, l'appuntamento fra due settimane, il 7 maggio, non ci dimenticheremo di farti gli auguri anche se non sarai qui con noi, grazie ancora Luca Pandolfi. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a tutti.